Direttamente dalla cameretta magica, benvenuti a un nuovo video, oggi 2 luglio, da Amazon oggi mi è arrivato un pacco, allora Qua c'è scritto 0.20 kg KGS e qua c'è la data 2 luglio E qua c'è scritto quel simbolo di 26.4 G che non so cosa significa Ma adesso iniziamo ad aprire il pacco e vediamo che cosa ho preso questa volta Aspetta, ecco, ho preso due DVD, abbiamo Wall-E e uno di Spongebob Amici in Fuga Allora, i miei preferiti è Wall-E e Spongebob in Fuga Qual è il vostro? Allora, Spongebob e il suo migliore amico Patrick e la banda di Disney Bottoms sono protagonisti del loro più epico film d'avventura Allora, qua ci sono Spongebob e i suoi amici da bambini, Sandy, Spongebob, Patrick e Squiddy E qua si vede Spongebob da bambino Allora, qua c'è, dall'inizio c'è Patrick con Spongebob Che vedono qualcosa di strano E poi qua c'è Wall-E Vedete un po' com'è carino un Wall-E E qua fa vedere tutto Allora ragazzi, spero tanto che questo video è terminato Noi ci vediamo in un prossimo video Ciao ciao! Ciao!